Pronto? Tracy, sono Phil. Phil, ma dove diavolo siete? Ehi presente la Dio al celibato? Siamo andati un po' fuori di testa e... abbiamo perso Doug. Che? Ci dobbiamo sposare tra cinque ore! Sì, io non ci conterei molto. Arriviamo! A una notte che non dimenticheremo. Che è successo ieri notte? Addio! Che mi manca un dente? Di chi è questo bambino? Controlla un po' il collare. Ho chiesto a tutti, nessuno ha visto Doug. Che spronza! Che hai al braccio? Sei stato in ospedale ieri notte? L'unica cosa che importa è ritrovare Doug. C'eravate soltanto lui e un altro tizio. E stava bene? Stava bene, ma era solo fuori di melone. Eravamo belli fatti. Ci può aiutare a capire cos'è successo ieri notte? Tanti auguri, Sto. Ti sei sposato. Sono una stripper. Polizia di Los Angeles, per me! Questi soggetti si sono offerti di dimostrare come si usa un dissuasore elettrico con un aggressore. In che senso? Dritto in faccia! Dritto in faccia! Sicuro che sei in grado di occuparti del bambino? Santa Peppa! Ma che sta succedendo? Mike Tyson! Ora arriva la mia parte preferita. Ancora l'istende? 正o che sei in grado di noi? Come on, Ancora l'istende? Good night!